Cari amiche, cari amici, il Vangelo della ventitresima domenica del Tempo Ordinario ci pone di fronte ad una situazione che in passato veniva chiamata Correzione Fraterna. Siamo nel capitolo 18 ed è contenuto il quarto dei cinque grandi discorsi che caratterizzano il Vangelo di Matteo. Questo discorso è proprio abitualmente chiamato discorso ecclesiale o la regola della comunità. La Correzione Fraterna è una delle principali questioni affrontate nella vita cristiana. Infatti la fede cristiana non è soltanto il rapporto del singolo con il suo Dio ma è anche il rapporto che coinvolge gli altri, soprattutto i fratelli nella fede. Ognuno è responsabile anche della fede e della testimonianza cristiana degli altri. Ma quando parliamo di riconciliazione dobbiamo parlare prima di tutto di riconciliazione con il creato, riconciliazione tra gli uomini, tra i popoli, tra le religioni. Non è un'utopia della storia perché in Cristo la riconciliazione è già cominciata. È uno dei temi cari affrontati continuamente da Papa Francesco nelle sue catechesi. Ma potremmo anche ripetere le parole dell'Apostolo Paolo che dice Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Pensate quale grande responsabilità ci ha affidata. A noi non è affidato il ministero di organizzare la guerra, il razzismo, oppure di far scuotere e rivivere i nazionalismi. A noi è affidato il ministero della riconciliazione. E ogni giorno dobbiamo sentire l'urgenza della riconciliazione. Riconciliarsi prima di tutto con la propria storia, con il passato, che non può rimanere sempre una zavorra pesante che ci accompagna e ogni tanto riemerge e ci schiaccia. Riconciliarsi anche con il presente per poter scorgere i segni dei tempi. Non possiamo dire che nella Chiesa ci siano soltanto segni di scandali, perché ci sono anche tanti nostri confratelli che in questo momento, mentre vi parlo, addirittura rischiano la vita in diverse parti del mondo per annunciare il Vangelo. Riconciliarsi con il tempo che passa. E poi la morte che diventa il segno più chiaro proprio della nostra fragilità, della fragilità umana. E questa io credo che ci possa insegnare a vivere una vita che sceglie l'essenziale, nell'attesa che poi in Cristo trovi lo compimento tutte le cose. Dovremmo chiedere davvero perdono al Signore, perché noi spesso non siamo una realtà conciliata, una realtà che si riconcilia continuamente. I cristiani sono separati. Lo siamo dai nostri fratelli ortodossi, dalla Chiesa anglicana, dalla Chiesa luterana, ma siamo talvolta anche separati nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, nelle nostre case. Esiste il demone della divisione. Perché però, mi chiedo, non siamo riconciliati? Perché forse tra noi regna poco la parola di Dio. Quando il Signore parla al profeta Ezechiele dice «Ascolterai una parola dalla mia bocca e tu li avvertirai da parte mia». Forse non sempre noi abbiamo pronunciato con la nostra bocca le parole di Dio. Tante volte sono risultate parole vuote, parole vane, parole magari dettate dal potere, dall'ideologia, le parole cioè dei forti. E così, invece di diventare ministri di comunione, siamo diventati ministri di divisione. Noi non dobbiamo dire le parole che vincono, già lo ha detto qualche mio confratello, ma le parole che salvano, solo quelle che riconciliano e costruiscono la pace, quella vera. Paolo potrebbe dirci, d'ora in poi dalla vostra bocca non escano parole arroganti, parole che non edificano. Le nostre parole devono servire a riconciliare. Ecco, dobbiamo essere molto umili, molto attenti, anche nelle nostre cattedre, nella stampa, nelle nostre chiese, per non scambiare il Vangelo con la cultura, ma soprattutto per non servirci del Vangelo, per affermare le nostre idee. Dobbiamo invece servire la parola. A questo mondo che guardiamo spesso con disprezzo, invece dobbiamo stare attenti alla parola di Dio. Il Signore dunque ci doni un cuore riconciliante, generoso e fedele, aperto all'accoglienza e alle necessità di quanto incontriamo. Buona domenica ancora, buone vacanze!